Allora siamo qui con Emanuele Ciulli, Sorriso 3.0, un libro che è diventato subito bestseller e sicuramente di buon auguri in questo momento. Emanuele come ti senti? Sono emozionatissimo perché ho raggiunto un risultato che mi ero prefissato ma l'ho raggiunto in pochissimo tempo ed è stata una grossa emozione ieri vedere quei risultati così importanti. Sì, devo dire, è molto veloce, anche la stampa ha colto molto bene, so che ci sono delle nuove uscite anche oggi. Senti, ma di cosa parla il tuo libro? Il mio libro è un libro che è innanzitutto un libro informativo, sicuramente è un libro che è nato perché vorrei eliminare alcune credenze popolari che hanno portato ad allontanare i pazienti dal dentista per paure, per terrore dell'ambiente che viene pubblicizzato sempre in un posto a meno, come posto a meno e con questo libro che cosa voglio fare? Voglio sicuramente ricreare una sorta di amicizia con il dentista e non per ultimo ricreare una certa confidenza con l'ambiente del cavorale in quanto dal cavorale possono crescere, nascere tantissime problematiche che si possono ripercuotere sia a livello sistemico ma sia anche a livello psicologico inestetismi, maleocclusioni, sono tutte problematiche che portano a una ridotta autostima soprattutto in cui i pazienti sono portatori di protesi mobili che hanno paura di affrontare un pranzo, una cena perché hanno l'insicurezza dell'instabilità dei loro manufatti e soprattutto perché alcune problematiche possono poi ripercuotersi a livello posturale tanto che alcuni dolori che uno dà legati ad aver dormito male o aver camminato male spesso sono legati a problematiche occlusali che si ripercuotono a livello cervicale, delle spalle, delle anche e quindi volevo far realizzare al paziente che alcune problematiche possono nascere dal cavorale ecco quindi il sorriso è un po' una metafora, un po' un collegamento non solo tra il tuo lavoro come dentista come dontoiatra ma anche con il fattore psicologico cioè in qualche modo una buona generale, un bel sorriso poi si trasporta anche fuori esatto, esatto perché una persona sorridente, mettiamola così ha una maggiore, dà almeno come impressione una maggiore sicurezza, una maggiore autostima e quindi la metafora del sorriso è un modo per inglobare tante sfaccettature dell'individuo ecco, come mai un dentista decide di scrivere un libro? bella domanda, giusta allora il dentista decide di scrivere un libro proprio perché vedo che i pazienti hanno bisogno di essere quando vengono hanno bisogno di essere ascoltati ascoltati e confortati e con questo libro io cosa voglio fare, cosa ho voluto fare? ho voluto mettermi vicino al paziente e dare una vicinanza per informarlo anche di tanti termini che spesso vengono utilizzati e che disorientano il paziente perché termini difficili a volte vengono dati per scontati e quindi il paziente magari non ti chiede la spiegazione dà per paura di parlare con te troppo a lungo e quindi con il libro ho voluto semplificare tanti termini che noi utilizziamo e renderlo così più facile l'ambiente certamente, sicuramente il libro è un modo veloce per condividere questa tua filosofia e questo avvicinamento tra paziente e medico senti, allora un'ultima domanda perché hai scelto Bruno Editore per pubblicare il tuo libro? Bruno Editore l'ho scelto perché ti ho conosciuto a dicembre del 2019 ed è stato un amore a prima vista è stato un entusiasmo talmente importante che non potevo dar seguito non dar seguito all'evoluzione di quello che volevo fare e con te ho avuto la conferma della fattibilità di questo percorso grazie all'aiuto tuo, dei tuoi collaboratori e tutta la tua casa editrice bene, bene, bene io ti ringrazio Emanuele e vorrei invitare tutte le persone che ci stanno guardando che stanno guardando questo video oggi o nei prossimi giorni andare su Amazon e cercare i sorrisi 3.0 di Emanuele Ciulli perché può essere un grande libro per chiunque abbia a che fare con i dentisti e per chiunque voglia trasformare il proprio sorriso in un'arma di comunicazione in un'arma di autostima anche in primo luogo esatto, esatto è quello il messaggio che voglio mandare ai miei pazienti e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo tipo di cultura, di informazione perfetto grazie mille Emanuele grazie a te grazie a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento ci vediamo su Amazon ciao